Le famiglie italiane sono sempre più indebitate. Al 31 dicembre 2022 l'importo medio dell'indebitamento per nucleo familiare è salito a 22.710 euro. Complessivamente lo stock dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie italiane si è attestato sul livello record di 595 miliardi di euro ed è aumentato del 3,5% rispetto al 2021. A evidenziarlo è l'ufficio studi della CGA che a seguito di questi risultati paventa un altro rischio, la crescita dell'usura. Nonostante il numero delle denunce sia da tempo in calo, non è da escludere che l'incremento dei debiti delle famiglie spinga più di qualcuno a rivolgersi agli usurai che da sempre sono più disponibili di chiunque altro ad aiutare chi si trova a corto di liquidità, soprattutto nei momenti economicamente più difficili. A livello territoriale le famiglie più in rosso si trovano nella provincia di Milano con un debito medio di 35.342 euro, al secondo posto quelle di Monza-Brianza, quindi i nuclei residenti a Bolzano. Appena fuori dal podio le famiglie di Roma e quelle di Como. Tra le meno esposte invece le famiglie residenti nella provincia di Agrigento, di Vibo Valencia e di Enna. Nel 2022 la provincia che ha subito la variazione di crescita dell'indebitamento familiare più importante è stata Ravenna, più 9,1%, mentre l'unica che ha subito una contrazione è stata Vercelli.